Se stai avendo difficoltà riguardo alla scheda video su FIFA 25, è possibile risolvere il problema che ti ho lasciato in descrizione dei link, quindi dei link proprio per aggiornare DirectX, aggiornare così il Microsoft Visual C++ per il tuo sistema operativo e poi scaricare e installare i driver per la tua scheda. Quindi in questo caso andiamo prima a scaricare e installare il software Web Installer per DirectX 9, 10 e 11 e anche per i problemi che può risolvere all'audio e andiamo così a scaricare il software, lo installiamo, facciamo sì, accettiamo il contratto, andiamo avanti, non installiamo questo PingTool, vai avanti e installerà così il tuo driver. Una volta fatto, andiamo direttamente su quest'altra pagina, Visual Studio dal 2015 fino al 2022 e installa uno di questi due per 86 o per 64 oppure puoi installarli tutti e due. Questo è per il sistema operativo 64 bit e questo per i 32 bit e ovviamente vado a prendere quello per i 64 bit. Faccio ripristina perché mi è già installato sul mio sistema, però faccio ripristina per farti vedere come fare, a te invece uscirà installa. E' necessario riavviare il computer, quindi chiudiamo un attimo qua e ora andiamo direttamente sui driver di NVIDIA. Per i problemi riguardo a NVIDIA c'è questo sito qua ufficiale per scaricare i driver e ovviamente vado così a selezionare la mia scheda grafica e metto GeForce serie 30, 3070, Windows 11, faccio trova. Per quelli che usano il computer per giocare devi installare un driver specifico, ovviamente c'è il driver GeForce Game Ready per quelli che vogliono giocare, invece se sei tipo un autore di contenuti in cerca di stabilità e qualità per i flussi di lavoro creativi, questo qua è per chi lavora, videoediti, animazioni, fotografie, invece questo qua è per giocare, quindi devi scaricare questo driver e installarlo. Una volta installato devi riavviare il computer e quindi tu hai installato il tuo driver grafico per FIFA 25 e per tutti i giochi in generale. Quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video, in alto a destra nella playlist c'è una playlist piena, proprio piena di video su FIFA 25, su come risolvere molti dei suoi problemi e soprattutto anche il controller che ha problemi a connettersi o che non funziona su FIFA 25. Quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!